Questa chiesa ha bisogno di persone che ci vadano, che adesso si saranno anche allontanate un po' perché con questo fatto qui, io sinceramente in prima persona a me non è mai successo niente se non c'è stato un aiuto, diciamo non materiale, un aiuto di preghiera, un aiuto di... quindi per me è una persona... poi adesso non si sa, speriamo che ci mettono una persona che ci dure perché è un po' che ci siamo tutti peggi. Di un paroco, di sacerdote, soprattutto cattolico, di Santa Romana Chiesa, e beh sì, comunque ci vuole quello e poi speriamo di chiudere questa parentesi, e beh ci mancherebbe altro, siamo rimasti sì scioccati. Che lo aiuterete secondo la generosità del vostro cuore e nella luce della mia vita. Egli ha accettato prontamente la decisione del Vescovo, nello spirito dell'obbedienza sacerdotale, ma ha accettato anche con gioia perché gli ho parlato di ciò che ho visto di voi in questo tempo di prova. Gli ho raccontato del giorno tristissimo nel quale sto venuto per darmi la notizia ufficiale di ciò che era accaduto e dei provvedimenti canonici subiti, subito presi. In quel primo drammatico momento ho toccato con mano sconcetto e dolore, ma anche la voglia di guardare avanti. Secondo la parte, il dolore per quanto accaduto non è di certo attenuato, pensando innanzitutto a quanti ne sono stati in qualunque modo toccati. Dall'altra sento la vostra voglia di guardare oltre e di continuare insieme al nuovo marco. E dunque questo, l'inizio di una nuova pagina, è come un raggio di luce. Don Giovanni, con sé la città, sarà con voi e per voi, inviato dalla Chiesa con i sentimenti di Gesù, don Pastor. Abbiate fiducia in lui e vogliate di bene. Già siete nella sua preghiera e nel suo cuore. Di tanta amicizia e di tanta continuità senza altro. Che sia migliore di quello che è andato via, che l'abbiamo mandato via. Grazie a tutti.